Dal 3 giugno del 2021 è reperibile su Amazon Prime Video il film The Mauritanian con la regia di Kevin MacDonald, un film che ha permesso anche a Jodie Foster di vincere il premio come miglior attrice non protagonista alla scorsa edizione dei Golden Globe e tra parentesi per ora anche l'ultima. Ho visto questo film su Prime perché purtroppo in Italia non è passato per le sale e questo è un dispiacere e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Un film veramente di inchiesta, di denuncia, un film molto duro, un film che saprà scuotere lo spettatore anche perché si parla di un detenuto nella prigione a Cuba di Guantanamo che è stato trattenuto, che è stato ovviamente condannato senza prove, che è stato 14 anni in questo carcere di Guantanamo senza che in realtà avesse fatto niente, senza che in realtà fosse stato condannato per qualcosa ma solo perché c'era il sentito dire che avesse dei legami ovviamente con Al Qaeda e che avesse dei legami con l'attentato dell'11 settembre 2001. Quindi ovviamente è un film che fa male, è un film che ovviamente si rifà a questa storia vera, si rifà proprio alle memorie scritte da Mohamedou Sly che è questo proprio ragazzo che nel 2002 venne prelevato da casa propria, venne rinchiuso in questo carcere dove è stato fino al 2016-2017 perché ovviamente cercarono in tutti i modi di farlo parlare, questo film vuol proprio denunciare anche i metodi di coercizione che venivano usati all'interno della struttura di Guantanamo. Il film vuole condannare anche i soprusi, vuole condannare le ingiustizie, le ingiustizie perpetrate ai danni di queste persone che venivano arrestate e che molto spesso venivano trattenute solo perché magari avevano un certo colore della pelle, solo perché magari avevano un certo tipo di religione, solo perché magari professavano una certa fede che quindi si pensava che potessero essere torturate così senza problemi ed è ovvio che una persona alla fine se viene torturata e soffre ogni giorno di più, alla fine pur di smettere di soffrire è pronta a testimoniare qualsiasi cosa. Lungi da me dire che non ci siano stati veri delinquenti e che non ci siano veri delinquenti a Guantanamo, è lungi da me dire questo. Ovviamente io mi rifaccio a ciò che il film mi mostra e che si rifà alle memorie del vero protagonista. Fatto sta che da persona, penso minimamente intelligente, arrivo a capire che ovviamente la tortura sia sempre sbagliata. Non è che puoi combattere la violenza con altra violenza o che puoi costringere le persone a parlare trattandole male, picchiandole, umiliandole e rischiando di ucciderle con queste terribili situazioni che poi si verificano all'interno di questo carcere, di questa struttura proprio a Cuba. E il film si rifà alla storia del nostro Mohamed O, con la O finale, che in questo film è interpretato veramente molto bene da Tahar Rahim, mentre Jodie Foster interpreta l'avvocato, l'avvocato Nancy Hollander, che vorrà difenderlo, che vorrà far chiarezza su questo caso di questo ragazzo portato nella prigione di Guantanamo, senza che in realtà ci fossero delle vere accuse, delle prove concrete, soffermandosi esclusivamente sul sentito dire. Sì, ma lui comunque è cugino di uno che aveva a che fare con Bin Laden. Una volta ha ricevuto una telefonata dal telefono di Bin Laden, suo cugino si è messo in contatto con il nostro Mohamed O col telefono di Bin Laden. Per di più è stato proprio lui, è stato proprio il nostro Mohamed O a reclutare gli attentatori che poi si sarebbero schiantati nel disastro dell'11 settembre sulle torri gemelle, quindi tante voci ma di confermato in realtà niente. E quindi da un lato abbiamo la nostra Nancy Hollander, interpretata magistralmente da Jodie Foster, che vuole difendere questo ragazzo, che vuole difendere Mohamed O, che è stato strappato alla sua famiglia inizialmente con la scusa di interrogarlo, però poi è stato imprigionato illegalmente. E dall'altra parte invece abbiamo Stuart Coach, che è praticamente questo tenente colonnello interpretato molto bene da Benedict Cumberbatch, che ha perso un amico nell'attacco dell'11 settembre, quindi vuole dall'altro lato condannare il nostro Mohamed O. Ovviamente il film vuole mostrarci quanto anche il governo abbia compiuto degli sbagli, quanto anche il governo abbia cercato di coprire le loro malefatte. Ovviamente faceva molto più comodo per tutti loro tenere in cella il nostro Mohamed O, picchiarlo, umiliarlo e costringerlo a parlare con la violenza, minacciando anche sua madre, minacciando la sua famiglia. Si arrivano a dire delle cose assurde. Il nostro Mohamed O ha raccolto in questo libro Guantanamo Diary tutta la sua storia, ha raccolto tutte le sue memorie, memorie scritte proprio all'interno di quella cella. Un libro che vorrò assolutamente acquistare, che già da quel che so troveremo censurato, perché proprio sul finale del film noi vedremo il vero Mohamed O che fortunatamente poi venne rilasciato, anche se sette anni dopo che gli arrivò la lettera di scarcerazione, perché anche il governo Obama si oppose a questa scarcerazione, quindi lui è stato, seppur fosse stato dichiarato innocente, altri sette anni in carcere e quando è uscito sul finale vediamo proprio le vere immagini e anche la pubblicazione di questo libro che poi è diventato un bestseller in tutto il mondo, è stato tradotto in tutte le lingue e ovviamente abbiamo il nostro vero Mohamed O che apre il libro e ci mostra tutte le pagine che sono state censurate, perché ovviamente non si potevano fare nomi, perché ovviamente non si potevano dire certe cose, però ovviamente il film vuole essere d'inchiesta, vuole essere di denuncia e vuole proprio raccontare queste terribili cose realmente accadute nella struttura di Guantanamo e questo è solo un caso. Chissà quante altre situazioni similari siano accadute, chissà quante cose potremmo sapere e non sappiamo e quante cose siano state nascoste dal governo, perché è facile fidarsi anche di coloro che dovrebbero tutelarci e dire ok hanno catturato un delinquente, però vedendo questo film ti rendi conto anche quanto molto spesso i delinquenti si trasformino in delinquenti anche se non lo sono in realtà per salvarsi la vita, perché immaginate voi di essere torturati dalla mattina alla sera, di stare per ore e ore in piedi senza la possibilità di dormire, piegati, in piedi piegati, con delle catene al collo, alle braccia, alle gambe, con musica fortissima all'interno della stanza, con la luce buia, con le guardie che poi entrano con delle maschere orribili, con delle donne che ti umiliano, ti sputano, ti umiliano anche sessualmente, con degli uomini che ti picchiano con i manganelli, con degli uomini che ti tengono la testa sott'acqua, ti prendono a cazzotti fino a che non parli. Immaginatevi di trovarvi in una situazione del genere dove ovviamente i diritti umani, tutti i diritti umani vengono violati e provate a pensare, caspita, testimonierei anch'io seppur non abbia fatto determinate cose oppure no. E quindi pensare che molto spesso siano state condannate persone che in realtà fossero innocenti. Ebbè è un bel colpo, è un bel colpo e guardando questo film sicuramente non potrete restare sereni, non potrete restare non coinvolti dalla vicenda che il film vi mostrerà. È un film tribunalistico, è un film d'inchiesta, è un film che comunque oltre ad una regia molto classica si alterna anche una regia molto più documentaristica nei momenti in cui ci sono i flashback dei momenti vissuti dal nostro Mohamedot all'interno di questa cella, di queste varie celle dentro Guantanamo con questa struttura proprio che cambia, lo schermo da panoramico diventa in quattro terzi e con questo stile documentaristico e un'immagine un po' sgranata a livello fotografico si mostrano quasi come se fosse un found footage, si mostrano questi momenti di vita del nostro Mohamedot che fino alla fine ovviamente ha dichiarato di essere innocente fino a che poi dopo aver subito tutte le angherie possibili è stato costretto a testimoniare seppur non avesse fatto niente come è stato poi riconosciuto dalla legge perché venne ovviamente venne ovviamente ricattato e gli venne detto da uno dei superiori ho confessi oppure arresteremo tua madre la porteremo qua e verrà stuprata da tutti i detenuti quindi pensate un po' dove si arrivava queste cose sono state tutte raccolte anche in questo libro di memorie questo film spero spero possa far sentire in colpa tante persone sarei curioso di vedere la risposta del governo americano che per l'amor di dio avrà fatto tante cose buone sicuramente ci avrà tutelato tante volte però è anche vero che quando si ha il potere e nessuno ti può dire qualcosa perché ripeto ha il potere chissà quante cose nascondi chissà quanti scheletri nell'armadio hai ed è giusto che ci siano film di questo tipo perché cioè se noi magari ascoltassimo solo una campana per noi muome dopo potrebbe essere uno dei tanti terroristi che è stato condannato e che è stato sì magari picchiato e anche trattato male però perché terrorista e quindi si cercano di far pensare alla persona caspita è un terrorista se lo merita innanzitutto io penso che la tortura non c'è alla fine sia una pratica talmente medievale talmente priva di significato che quasi ti mette al pari della persona che ha commesso l'errore che dovrebbe cessare di esistere però non metto in dubbio che in dei momenti ci si debba difendere ovviamente non ci si possa non ci si possa far uccidere da questi terroristi per l'amor di dio però allo stesso tempo molto spesso se noi ci soffermiamo esclusivamente sulla notizia è stato arrestato un terrorista fine senza andare a fondo senza andare a cercar di capire cosa in realtà ci sia sotto arrestato terrorista ucciso terrorista in cella era uno degli attentatori bla 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 c'è noi con questo film arriviamo a domandarci ma sarà vero c'è ora io da qui in avanti comincerò a farmi delle domande perché purtroppo queste cose sono bestiali sono delle cose che secondo me non dovrebbero esistere sulla faccia del mondo e con tutto il rispetto che possa avere per coloro che dovrebbero tutelarci faccio anche i miei complimenti a kevin mcdonald che si assume dei forti rischi dei grandi rischi nel fare un film così di inchiesta così di denuncia ed è sempre giusto avere gli occhi aperti perché se noi avessimo ripeto ascoltato la notizia solo da una campana magari anche per noi mohamedo sarebbe stato un terrorista per noi magari potrebbe noi magari avremmo potuto vedere mohamedo come veramente colui che ha reclutato delle persone per l'attentato dell'11 settembre quando in realtà non è così è una cosa bella del film è quando sia l'avvocato di di mohamedo sia ovviamente il tenente interpretato da benedith camberbatch stu si rendano conto che qualcosa non vada e che quindi due persone all'inizio ovviamente divisi in questa causa due persone divise in questa causa da una parte dall'altra perché ovviamente c'era il nostro tenente colonnello che voleva portare ovviamente sulla sedia elettrica e voleva portare alla morte il nostro mohamedo e dall'altra parte abbiamo avevamo invece questa questa avvocatessa che in tutti i modi voleva salvarlo perché ovviamente tutti si meritano secondo ovviamente la legge tutti si meritano un processo tutti ovviamente si meritano di essere tutelati e così via che siano delinquenti che non siano delinquenti perché comunque la legge è uguale per tutti e non si può condannare senza prove però è proprio bello vedere come nel film poi si uniscano queste due persone insieme riescano a comprendere quante ingiustizie il governo avesse perpetrato ai danni del nostro mohamedo e quindi il film questo te lo mostra il film dura più di due ore dura circa due ore e dieci due ore e dieci però che passano molto velocemente è un film ben girato ben fotografato è un film dove il finale non potrà che farvi ingoiare un boccone amaro perché poi anche se ti provi un po di piacere di gioia per la scarcerazione del nostro mohamedo ti rendi conto che poi per altri sette anni lui ha continuato a soffrire perché il governo obama si è opposto si è opposto e quindi lui è stato fin quasi al 2017 in carcere però non ha perso non ha perso la speranza e la continua voglia di dimostrare quanto fosse innocente bellissimo anche sul finale il discorso che fa in videochiamata con con il tribunale e quando ovviamente dice la verità però poi dice anche siete liberi di fare le vostre scelte cioè lui è stato sincero e quando poi vediamo le immagini vere di lui che finalmente torna dalla sua famiglia anche se non potrà mai più rivedere sua madre che è morta nel 2013 e vedere tutti che lo accolgono vedere tutti che lo festeggiano lui è uscito una sera senza niente nel 2002 convinto di andare a fare un interrogatorio prendo io la mia macchina mamma non ti preoccupare se mi volessero trattenere mica mi farebbero guidare e invece poi la sua mamma non la rivedrà più e queste ingiustizie sicuramente non le dovremo più vivere non dovremo più ascoltare notizie di questo genere non dovremo più arrivare a comportarsi in questo modo perché se penso che le persone che hanno torturato questo povero ragazzo siano persone che come me respirano delle persone che come me possano votare delle persone che come me si possono trovare in giro per strada io un po mi spavento e se penso che queste persone siano proprio coloro che dovrebbero tutelarci io dico caspita ma come si fa a pensare che una struttura di guantanamo possa fare una cosa del genere che una struttura come quella di guantanamo possa fare una cosa del genere forse guantanamo è solo un piccolo pezzettino dell'iceberg perché magari in profondità ce ne sono tantissime strutture similare in cui si praticano cose del genere quante volte si abusa del potere quante volte forse dell'ordine abusano del proprio potere ovviamente non faccio di tutto all'erbo un fascio e ovviamente sarò sempre grato a chi rischia la vita per noi però allo stesso tempo penso che arrivare a torturare una persona sia una forma bestiale di difesa di giustizia e spero che cose del genere non capitino più però già il film ci fa capire sul finale che di casi di questo genere ce ne sono stati tanti non è il primo film certamente che parla di ingiustizie di persone condannate indipendentemente da guantanamo mentre in realtà si è scoperto poi che fossero innocenti comunque questo è un po il mio parere su the mauritanian secondo me interpretazioni molto valde si è meritato secondo me il premio jodie foster come migliore attrice non protagonista abbiamo tahar rahim che è stato secondo me molto somigliante molto bravo nei panni di muome don't slide shaylen woodley nei panni della dell'altra aiutante della nostra jodie foster e poi sul finale vedremo proprio i veri volti delle vere persone benedith camberbatch nei panni di stu coach questo tenente colonnello e poi c'è zachary levi che tra l'altro dopo averlo visto in shazam è diventato molto più molto più grosso ma anche grassoccio quindi spero che per shazam fury of god si rimetta in forma fatemi sapere la vostra ragazzi se anche voi questo film è piaciuto molto fatemi sapere se lo vedrete ovviamente io in questo film si vi ho già detto cose che vi faranno già capire come andrà a finire il film però è una storia vera ragazzi è come se vi stessi raccontando dei campi di concentramento non è che mi devo trattenere nel dirvi che purtroppo degli ebrei siano stati uccisi quindi si sta parlando di un film che tratta una storia vera e quindi vi dico già che il nostro protagonista sia stato liberato però dopo tanti anni quindi un film che mi ha colpito che mi ha scosso tantissimo e che rivedrò senz'altro sarò curioso di sapere la vostra fatemi sapere vi ricordo che nelle info di questo video troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine sociale che potreste abbonarvi anche al canale perché abbonando vi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana un caro saluto ragazzi de mauritanian reperibile su prime peccato non averlo visto al cinema ma purtroppo in italia dal cinema non è passato e allora ciao ciao